Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'ortodio ci troviamo con l'ennesima lezione di agricoltura continuiamo a piantare i piselli perché ci sono rimasti un po' di piselli qua come potete vedere questo bicchiere perché li ho messi a bagno perché ricordiamo che i semi vanno messi tutti a bagno 24-48 ore è meglio, aiuta la germinazione però oggi voglio piantare anche le carote e le carote ho queste, non le ho messe a bagno perché sono semi molto piccoli le pianterò in campo aperto perché la bustina ci dice che ve l'hanno piantate direttamente in campo aperto tra gennaio e agosto quindi già si possono mettere le esemineremo a sbaglio dove le esemineremo? allora, qui abbiamo il piazzale per le macchine e per la legna e con questo piazzale si è formato un costone laterale questo costone qua che tra l'altro è fatto di terra di riporto che è molto buona quindi in base ai principi della permacultura noi cerchiamo di sfruttare tutto lo spazio possibile ci troviamo anche molto vicini a casa quindi questo costone diventerà un costone da coltivazione quindi per prima cosa ho levato le infestanti sto levando le infestanti ma è un lavoro molto selettivo perché come potete vedere qui crescono un sacco di infestanti che in realtà sono utili e quindi non le andremo a levare cioè il crespino la crevice io aspetto dei magnammi lì per le vasi lì ci ho messo l'aloe ma con questo freddo si è quasi morta qua sotto cresce la nepitella queste sono delle violette delle bellissime violette quella è menta piperita è anche difficile che esca così spontanea probabilmente c'erano i semi nel terriccio queste sono delle liliace che fanno dei fiori come quel rimasuglio di pianta lì ci sono un sacco di liliace io tutte queste non le posso levare perché sono piante utili qui abbiamo la silene la rarissima silene bieta selvatica qua c'è tanta bieta selvatica pure lì io mi limito a togliere le gramigne le erbacce le erbacce infestanti che so che non servono che sono poche e nel frattempo come potete vedere dei piselli sono già spuntati perché io qua già ci avevo seminato dei piselli vedete pochi però eccone uno qua eccone uno qua voi dovete vedere che ci ho messo le canne sono usciti dei piselli mamma mia che vento oggi quindi ecco il costone è tutto questo continua qua qua abbiamo altra bieta selvatica un po' di pimpinella ecco queste sono le erbacce invece che io andrò a togliere gramigne e altre erbacce che non servono a niente ora io però queste erbacce che tolgo a parte le radici delle gramigne che quelle riprendono subito e so un macello tutte queste altre erbacce che tolgo non è che le tolgo per buttarle io le metto di lato le sto ammucchiando qui alla base di quest'albero perché subito dopo seminato le userò come pacciamatura per coprire il terreno per coprire il terreno vedete lì tutto tutta quella roba ammucchiata quindi finisco un po' questa estirpazione e poi passo alla semina ora vi faccio vedere un pezzettino che già posso seminare che sarete curiosi poi ovviamente andrà pacciamato e poi andrà innaffiato andiamo subito a vedere come seminare i piselli quelli li mettiamo un po' dappertutto perché oltre che ve li venderò a caro prezzo quando saranno pronti però ricordiamo che le leguminose fertilizzano il terreno anche se qua bisogna dire che è talmente tanto bello che non c'è bisogno di fertilizzazione è buona la terra comunque vediamo come possiamo seminare questo piccolo pezzettino li metto in sicurezza sempre sul piantone d'olivo oggi la vedo poco difficile questo vento pure la vedo poco difficile facciamo così la rega mi sa che non ve lo vedete come si viene come si viene non lo spiegarò mi sa che potete vedere qualcun'altro le metto qua sopra le metto qua sopra andiamo a centipari a centipari volendo che chiudiamo con un bastoncino ad esempio per far Qua insomma è una cosa semplicissima e adesso le carote, le carote è una cosa ancora più semplici, se ci vuole la mano bella sulle mani, siccome i semi sono piccoli, ci saranno tantissimi dentro una bustina, noi seminiamo a sbaglio, poi c'è dei cento semi, ecco, ecco, questo ok, ne ho presi una manciata che saranno 4-500 e li semino a sbaglio, e a sbaglio significa questo, facile eh? Bene, adesso facciamo e annaffio, e la storia è finita, anche la lezione è finita.